La morte in diretta sugli schermi dei meccanici che stavano assistendo alla gara, dramma ieri sul circuito del Mugello dove si stava svolgendo il tofeo Amatori 1000, classe avanzata valido per la Coppa della Federazione Motociclistica Italiana. Nicola Sartori, 52enne, motociclista originario di Cavarzare, residente ad Adria ma molto conosciuto anche nel Padovano dove aveva vissuto per molti anni e dove insegnava arti marziali, è morto in un terribile incidente in pista che ha coinvolto altri due centauri. Nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni sono parse fin da subito e disperate. Il pilota è morto prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale di Careggi dove invece sono stati ricoverati gli altri due piloti coinvolti che però non sono in pericolo di vita. Sartori è morto per i gravi traumi subiti nella caduta dopo essere stato disarcionato dalla moto a tre giri dal termine della gara. L'incidente è sotto gli occhi di tantissimi spettatori e dei tecnici e meccanici che hanno assistito in potenti.